Avvicinatevi voi due. Uno, due, tre. Questa è Cao Guying. Ci siamo appena sposati. Stai gettando i semi buoni, non si gettano i semi buoni. Assaggia. Ho piantato un fiore su di te. È come un segno. Così ti troverò sempre ovunque tu valli. Acroppati a me. Non assomiglia al nostro asino. Quell'asino ha avuto una vita migliore della mia. Le case sfitte saranno abbattute, lo sai? Quindi ora dovete portare via le vostre cose. Il Piano Nazionale di Aiuti dice che una famiglia povera ha diritto ad una casa popolare. 80 metri quadrati. Io sono solo un contadino. Che ci faccio in un appartamento in città? Come faccio a mantenerlo? Non lo voglio. Quello che seminiamo non può andare da nessuna parte. Vive e poi muore. Noi stiamo meglio di tutte le cose che coltiviamo nei campi. Ho capito che eri un brav'uomo. Uno da sposare. Non riuscivo neanche a guardarti. Non avevo mai pensato, in tutta la mia vita, che avrei avuto una casa mia. Unsalmonella di Aiuti dice che –